Il comparto pubblico non deve e non può essere considerato un ammortizzatore sociale. Se i risparmi derivanti da questo settore non fossero reinvestiti nella detassazione alle imprese, avremmo 2,5 posti di lavoro in più nel privato per ogni posto pubblico improduttivo eliminato. La logica deve essere meno Stato, meno sprechi e più federalismo. Lo dichiara Massimiliano Fedriga, capogruppo in Commissione Lavoro a Montecitorio per la Lega Nord, a margine dell'audizione con il Ministro della Pubblica Amministrazione, Gian Piero D'Alia. Noi chiediamo che ci sia effettivamente un'uguaglianza su tutto il territorio nazionale. Abbiamo delle aree del paese nel meridione dove i dipendenti pubblici sono assolutamente sproporzionati rispetto alla popolazione e rispetto al prodotto dal territorio stesso. L'esempio più lampante è quello dei forestali siciliani con 27 mila forestali, a differenza per esempio della mia regione, il Friuli Venezia Giulia, con una superficie boschiva più ampia che ha un centesimo dei forestali della Sicilia. È chiaro che queste disparità si ripercuotono nei bilanci pubblici, infatti se i parametri del nord fossero applicati a tutto il paese avremmo una diminuzione di 600 mila dipendenti pubblici. E se questo spreco venisse reinvestito nella detassazione all'impresa, sarebbe come dire 2,5 posti di lavoro in più ogni posto pubblico improduttivo nel paese.